Ciao bambini! Il mondo e la terra per ora rimangono fuori e noi dentro nelle nostre case. Ma abbiamo pensato che è ora di uscire e di tornare a viaggiare perché noi siamo fatti per viaggiare. Ci sono ancora molte terre da esplorare con l'abitante che ci aspetta a braccia aperte. E allora, aeroplanini, trenini e barchette, preparatevi perché si riparte da dove eravamo rimasti. Sarà un po' diverso perché non saremo fisicamente vicini, ma con il cuore e col pensiero saremo vicinissimi. Siete pronti? A partire sono le barchette, aria e l'è pronta, tirate sulle ancore e via! Ma ci raccomandiamo, portate la bussola, la mappa e seguite il vento. Poi arrivano i trenini che vagone dopo vagone ripartono. La locomotiva ha fatto rifornimento ed è entusiasta di portarvi in giro. E gli aeroplanini sono già esperti piloti. Le nuvole vi aspettano, la rutta è segnata. Ma c'è anche un tappeto magico che fatica a stare fermo. È trepidante! Ha voglia di ospitare qualcuno e portarlo nel magico mondo delle storie. Vuole farci conoscere personaggi nuovi che hanno tanto da raccontare. Il tappeto magico vuole farci volare tutti insieme con la fantasia. Siete pronti? Non c'è modo migliore per ripartire. Non abbiate paura. Ripartite con noi. Perché il mondo è vostro e voi siete del mondo. Non vedevamo l'ora di dirvelo. Buon viaggio! Vi vogliamo! Bene! Buon viaggio!